Ben trovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale, un nuovo confronto tra amministrazione e ASPE per decidere le sorti del Palacossighe e dell'elipista di Contrada Brucazzi. L'azienda sanitaria ha confermato che ci saranno fondi per il ripristino del Palacossiga chiuso ormai da mesi. Circa 280 mila euro che sommati a quelli dell'indisponibilità del comune dovrebbero essere sufficienti a restituire la funzionalità alla struttura sportiva. Pare che si intraveda più di una concreta speranza per le sorti del Palacossiga e il futuro dell'elipista Contrada Brucazzi. Ieri mattina l'amministrazione comunale ha provato a riaprire i due capitoli in presenza del direttore sanitario dell'ospedale Vittorio Emanuele Alfonso Cirrone Cipolla in rappresentanza dell'ASPE in transizione per via dei cambi manageriali. L'azienda sanitaria ha confermato che ci saranno i fondi per il ripristino del Palacossiga danneggiato durante le attività del lab vaccinale e poi da raid vandalici. Giovedì dovrebbe esserci un sopralluogo tecnico con referenti comunali e dell'ASPE per confermare l'entità dei costi. ASPE dovrebbe fornire non meno di 280 mila euro da aggiungere a circa 90 mila e recenti 50 mila euro nella disponibilità al comune per il tramite delle iniziative istituzionali dei parlamentari ARS di Paola e Mancuso. I fondi potrebbero essere sufficienti per il ripristino come conferma l'assessore allo sport Giuseppe Favitta. Con il dottore Cirrone Cipolla si è definito che giovedì dopo domani si farà un sopralluogo congiunto al Palacossiga con i tecnici del comune e i tecnici dell'ASPE per confermare o eventualmente integrare il preventivo che è già in nostro possesso. Sono 280 mila euro salvo diverse indicazioni che si vedranno giovedì dal sopralluogo tecnico che si farà e che vanno ad aggiungersi ai soldi che la Regione grazie all'intervento dei nostri parlamentari ci manda. La strada è quella di evitare un lungo contenzioso che farebbe perdere solo tempo prezioso. La priorità rimane quella della riapertura del Palacossiga che però prima va reso efficiente. Questa amministrazione ha inteso sin da subito mettere dei tavoli di concertazione con le parti e questo sta portando i suoi frutti. Dopo che facciamo il sopralluogo e sentitosi i due uffici tecnici di ASPE e di comune nel breve tempo si mette mano alle attività. La nuova stagione sportiva comincerà ovviamente tra un anno o c'è la possibilità di rivedere finalmente il Palacossiga Operativa. Questo è il nostro augurio e il nostro impegno. Il management dell'azienda sanitaria ha fatto sapere che non ci saranno mutamenti neppure rispetto all'elipista. La scorsa settimana in Regione è stato sancito il ruolo dell'ASPE che dovrà farsi carico degli interventi essenziali per adeguare l'area e renderla adatta alle esigenze dell'emergenza sanitaria. Sono previsti interventi volti all'illuminazione, alla posa dell'asfalto e a un nuovo sistema di videosorveglianza. Ci spostiamo a Niscemi dove un 43enne Niscemes è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, minacce e tentata estorsione. I puliziotti del commissariato dopo la segnalazione sulla linea d'emergenza sono intervenuti presso un'attività commerciale di Niscemi in quanto l'uomo era stato minacciato dal proprio figlio. Il padre ormai stanco delle incessanti richieste di denaro è preoccupato per l'incolumità della sua famiglia, ha sporto ulteriore denuncia. Il giorno prima negli uffici del commissariato aveva già denunciato il figlio per maltrattamenti attivando il codice rosso. L'arrestato si trova adesso presso la casa circondaliere di Gela e il fermo è stato convalidato dal GIP presso il Tribunale di Gela che ha applicato all'uomo la misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Una donna è stata assolta dall'accusa di aver tentato di accentuare le conseguenze di un incidente stradale generato dal cedimento di un viadotto sulla statale 626 Gela Caltanissetta la decisione al termine del dibattimento. È stata assolta nel merito seppur fosse già maturata la prescrizione. La giudice Miriam Damore ha pronunciato una lesione favorevole per la posizione di Monia Greco. La donna anni fa rimase ferita su un tratto del viadotto Geremia II della 626 Gela Caltanissetta. Quell'episodio precedente e il crollo successivo riportò ferite per un cedimento. Secondo la compagna assicurativa però ci furono delle forzature sulle conseguenze fisiche finalizzate solo ad incassare il premio assicurativo. L'ipotesi di reato contestata era fraudolento, danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona. Per gli investigatori l'imputata avrebbe usato un tutore per il corpo che puntualmente toglieva non appena uscita al tribunale dove si tenevano le udienze del procedimento civile. La compagna assicurativa si affidò a verifiche ulteriori. La procura però concluso indicando la prescrizione. La compagna assicurativa è stata nel procedimento parte civile con il legale Feliciana Ponzio che ha indicato profili di una presunta responsabilità dell'imputata. La difesa, sostenuta legale Davide Limoncello, come fatto nel corso del dibattimento, ha riferito che i danni per quanto accaduto vennero effettivamente riportati alla donna in auto, viaggiava verso Caltanissetta. È stato spiegato che pure nel giudizio civile è maturato il diritto al risarcimento, la contestazione penale e quindi caduta con l'assoluzione. Ed è stata investita da una vettura in transito su un tratto stradale che conduce a Palazzo di Giustizia. Una bambina questa mattina è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Non sarebbe in gravi condizioni. L'incidente ha comunque destato preoccupazioni tra i tanti che si trovavano in una zona molto trafficata al mattino. Sembra che la bambina sia stata investita mentre attraversava. Riparte oggi il tavolo tecnico sulle prescrizioni imposte ad Enimed sulla base del progetto per il gas Argo Cassiopea. Sono interventi volti al risanamento ambientale ma ad oggi le parti sono piuttosto lontane. La produzione a pieno regime del progetto per il gas Argo Cassiopea dovrebbe concretizzarsi entro fine anno. Nelle scorse settimane Enimed ha fatto sapere che sono partite le prime attività. Il governo regionale ha appena rilasciato il decreto per la ripartizione delle royalties riconosciute tra i comuni costieri toccati al progetto Gela, Butera e Licata. Il percorso che invece stenta a decollare è quello delle prescrizioni imposte alla multinazionale nelle due autorizzazioni comunali rilasciate negli scorsi anni proprio per far andare avanti l'iter di Argo Cassiopea. Oggi riprende il tavolo tecnico che fino ad ora ha alle spalle solo pochi incontri e sostanzialmente nessun riscontro pratico. L'attuazione delle prescrizioni è finalizzata a garantire la tutela ambientale di intere aree in mare e a terra che rientrano nei quadranti toccati all'investimento per il gas che prevede inoltre una base a terra per l'immissione della rete nazionale. Il riferimento alla riserva a vivere Emilio Giudice per anni ha chiesto un confronto costante per arrivare ad un cronoprogramma preciso sull'attuazione delle prescrizioni. Sono diverse le misure indicate nelle autorizzazioni ma il percorso per attuarle pare molto lungo e complesso. Servono risorse ingenti e per giudice l'osservanza e le prescrizioni avrebbe dovuto anticipare l'avvio dei lavori per il gas. I giacimenti lungo la costa sono visti come essenziali per rafforzare la dotazione nazionale. Istituzioni e politiche si sono concentrate sul programma posto in estera multinazionale. Sulle royalties c'è stata piena sintonia di vedute indipendentemente dagli schieramenti. La sindaco di Stefano aveva preannunciato l'intenzione di riattivare gli incontri. Una delle ultime riunioni a maggio fece emergere la necessità di una mappatura dettagliata delle aree sulle quali intervenire per adiempiere. In base alle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi comunali vanno concentrati interventi consistenti di risanamento e salvaguardia ambientale. Ad agosto è entrato in vigore il regolamento europeo sul ripristino degli ambienti naturali, altro fronte che andrà analizzato con attenzione. A meno di un mese dal ventesimo anniversario dell'ordinazione sacerdotale di Don Giorgio Cilindrello lascia il parrocato nella chiesa di Sette Farine e San Sebastiano accetta la chiamata per la missione. Un desiderio che il sacerdote di origini francescane aveva nel cuore da diverso tempo ma che ha rimandato per prendersi cura dei genitori anziani. Adesso il cuore di Don Giorgio è libero di partire per annunciare il suo amato Vangelo. Dopo vent'anni di servizio sacerdotale in città Don Giorgio Cilindrello si appresta a lasciare Gela come annunciato da Monsignor Rosario Gisana al termine della messa pontificale in occasione della festa padronale di Maria Santissima d'Alemanna. Don Giorgio partirà presto per la missione un desiderio che aveva nel cuore da diverso tempo ma che ha rimandato per prendersi cura dei genitori anziani. Dopo la morte della madre il 14 febbraio 2016 il desiderio della missione si faceva sempre più grande nel cuore del sacerdote che però ha scelto di rimanere in città per stare vicino al padre scomparso alla veneranda età di 98 anni il 18 gennaio 2020 a causa del Covid. Adesso il cuore di Don Giorgio è libero di partire per annunciare il suo amato Vangelo. È stato cullato, covato nel mio cuore desiderato e da tanti anni che il Signore mi ha fatto aspettare perché magari non ero pronto ma questo servizio del Vangelo è venuto proprio quest'anno dopo tanta attesa e quindi sono pronto per partire per lasciare ma non lascio perché porto con me tutti i volti tutti i miei cari tutti gli amici, fratelli la parrocchia, la mia città la porto con me quindi lascio ma non lascio. Una missione che è ancora un'incognita perché ancora non è arrivata la destinazione? La notizia è stata accolta con gioia dalla famiglia del sacerdote che conta ben due sorelle, quattro fratelli e 25 nipoti. Ho una famiglia numerosa ma loro diciamo che sono stati abituati a questo pensiero quindi penso che prima o poi se la sarebbero aspettata. Anche perché ricordiamo che le tue radici francescane sono proprio quelle del vagabondaggio cristiano e dell'evangelizzazione. Certo, vagabondaggio sempre guidato, sempre sotto obbedienza che significa aver percorso anche parte dell'Italia anche in autostop quindi ogni passaggio era un motivo, un'occasione per annunciare il Vangelo per parlare di Gesù Cristo. Don Giorgio torna così alle sue radici quando da frate minore rinnovato conduceva una vita da nomade del Vangelo. Quello di Don Giorgio non è però un saluto definitivo. Il sacerdote tornerà in città per trascorrere le feste con la famiglia e alcune settimane estive in queste occasioni la sua casa sarà ancora la parrocchia di Settefarina. Non è mai troppo tardi perché per me è importante poter mettermi in discussione poter lasciare tutto perché dici Paolo se tu hai la casa come se non l'avessi hai dei soldi come se non l'avessi hai delle cose come se non l'avessi quindi vivere tutto con distacco e questo del lasciare proprio materialmente per la missione mi pare che sia anche una palestra importante per lo spirito e per l'anima. So che hai aiutato tanti, tantissimi quindi con il cuore vi dico coraggio, Dio vi ama. L'Interact Club DJ l'ha organizzato in collaborazione con i rappresentanti dei licei Elio Vittorini, Eschilo e Delitis Morselli l'evento Back to School in un noto stabilimento balneare della città. L'iniziativa ha avuto un duplice scopo celebrare il ritorno a scuola ed evolvere i proventi in beneficenza. L'intero ricavato che ha superato il migliaio di euro è stato donato all'associazione di volontariato FARC preseduta da Angela Lobello impegnata nell'assistenza ai malati oncologici. L'associazione grazie a fondi raccolti ha partecipato inoltre alla raccolta dei beni scolastici organizzata dall'Interact Club in collaborazione con tre cartolibrerie tenutesi sabato 14. I beni saranno destinati alla chiesa evangelica Parola della Grazia guidata dal pastore Spina. Dovrebbe tenersi giovedì 24 ore prima della seduta su Timpazzo l'incontro di maggioranza per fare il punto sulla situazione politica amministrativa. Il sindaco aveva preannunciato di voler incontrare i suoi alleati. Prospettive politiche e priorità amministrative sono questi due filoni che il sindaco Tarenziano Di Stefano in settimana vaglierà insieme agli alleati compresi quelli della prima ora che fecero subito parte del Lago Rà. Si parte proprio dalle origini che diedero vigore politico alla sua candidatura. Il sindaco ha chiamato a raccolta i suoi per giovedì. Avevamo già riferito che c'era la volontà di un confronto complessivo politico-amministrativo. Di Stefano non vuole perdere di vista emergenze come quella idrica né trascurare il decoro urbano. Ci sono poi i progetti, i programmi del PNRR e l'Unione dei Comuni oltre a punti cruciali come il bilancio stabilmente riequilibrato e l'accaso Timpazzo. Il sindaco non intende rompere gli equilibri ma al contempo ha parlato di una vittoria elettorale dettata da una precisa strategia comprensiva di accordi ampi. Nelle scorse settimane non sono mancate le polemiche su eventuali intese con esponenti all'area di centrodestra che avrebbero assicurato un sostegno ulteriore al ballottaggio. Il modello Gela è quello che progressisti e civici vogliono alimentare per uno scenario che non sia solo cittadino ma pure regionale. L'alleanza dovrà rapportarsi ad esigenze immediate a scenari politici che potrebbero mutare seppur non in modo repentino. Probabilmente l'evolversi dello schema potrà essere graduale nel corso del tempo. Di Stefano vuole andare avanti senza l'assillo di strategie variabili. Dem, Grillini e Civici sono pienamente con lui ma innesti successivi soprattutto se esterni all'alleanza potrebbero porre distinguo e diffidenze. Gli autonomisti in giunta hanno ribadito di riconoscersi nel progetto seppur abbiano una collocazione nel governo regionale del presidente Schifani. Ci sono poi tante entità differenti dai calendiani di azione fino ai comunisti. Probabilmente l'intenzione del capo dell'amministrazione è parlare con una lingua comune ma aperta a supporti che non siano soggetti a veti. Si inizia dai temi e dalle priorità amministrative gli assetti politici però non possono essere trascurati. Lo scorso 15 settembre a Ramacca nell'ambito del prestigioso premio Don Luigi Sturzo è stato conferito un riconoscimento postumo al poeta e scrittore gelè Senzo Salsetta figura di spicco della cultura locale che a Ramacca dedicò tantissime poesie e l'amministrazione comunale di Ramacca ha annunciato anche l'istituzione per il 2025 di un premio di poesia intitolato ad Enzo Salsetta dal titolo Tenere le notte e senza tempo verso tratto da una delle poesie dello scrittore. a ritirare il premio è stata l'emozionatissima figlia Gala che ha voluto ringraziare gli organizzatori tutti i presenti per l'affetto e l'ammirazione dimostrati nei confronti del padre. Lo sport novità importanti in casa Vigor Gela la società Biancazzura si è iscritta al prossimo campionato di serie di calcio a 5 con lo scopo di dare la possibilità ai gelesi rimasti svincolati di poter proseguire le proprie carriere calcistiche e soprattutto un'opportunità al futsal di non scomparire e continuare a vivere in una città affamata di sport come Gela a rivelare tutto ciò Simone Pardo ospite ieri sera a Bar Sport trasmissione che potete riguardare quando volete sulla nostra pagina Facebook Grandi novità in casa Vigor Gela ospite ieri sera a Bar Sport il direttore sportivo Simone Pardo è stato chiarissimo la società Biancazzurra è pronta a lasciare il segno nel lungo termine non solo per quanto riguarda il calcio a 11 per questo motivo il suo delizio cara Cristian Paradiso si è iscritto al prossimo campionato di Serie D di calcio a 5 un'iniziativa passata in Zordine che regala al futsal un'altra chance all'interno del panorama sportivo gelese questo è un progetto che inizia quest'anno ma io vi posso garantire che è un progetto a lungo termine mi voglio riallacciare alla presentazione di Fabrizio dove diceva e questo è anche un segnale che vuole dare la società Vigor Gela dove ha detto ma ahimè che non ci sarà più la squadra di calcio a 5 a Gela invece ti posso dire che la Vigor Gela ha già iscritto la squadra di calcio a 5 per dare proprio la possibilità a quei gelesi di farli tornare e giocare a Gela quindi partiamo anche da lì la Vigor Gela quest'anno avrà anche il calcio a 5 ci stiamo strutturando diciamo per fare bene per fare un qualcosa di importante in questa città e per fare un qualcosa di importante in questa città c'è bisogno di programmazione bisogna programmare bene io penso sempre che i campionati vanno affrontati uno alla volta e vanno affrontati con tanta programmazione serietà ma soprattutto competenza e questo penso che all'interno della Vigor penso che ne abbiamo abbastanza per quanto riguarda il calcio a 11 il debutto in campionato è stato da 9 in Pagella grande gioco e ben 4 in reti rifilati allo Scicli a macchiare la gara è gol subito allo scadere sul calcio di punizione complice un calo di concentrazione difensivo che poteva sicuramente evitare di concedere quel free kick da quella posizione agli avversari e complice un intervento non perfetto da parte dell'estremo difensore Mangione siamo stati un po' molto in ritardo siamo ancora in ritardo di condizione ieri diciamo che un plauso va allo staff tecnico e ai ragazzi che sono stati bravi subito a mettere la partita in discesa non era facile perché se guardiamo bene il primo tempo Scicli è una squadra ben organizzata poi magari il livello tecnico alla lunga viene sempre fuori e quindi diciamo che la squadra sta lavorando bene il mister è una vittoria che ci continua a dare entusiasmo e fiducia proseguiamo questo cammino importante ma tutti sappiamo che dobbiamo volare basso dobbiamo stare con i piedi per terra una squadra quella biancazzora costruita dal direttore esportivo Simone Pardo in pochissimo tempo visto l'attesa per i ripescaggi in promozione accolto solo a poche settimane dall'inizio della stagione agonistica e che ha costretto la società a muoversi sul mercato in fretta e furia visti i ritardi di tempi ristretti è stato semplice costruire la squadra siamo l'unica squadra che era ferma fino all'ultimo perché aspettavamo la certezza del ripescaggio quindi non è stato facile costruirla però da lì in poi diciamo che penso che abbiamo costruito una squadra che vogliamo dire la nostra e ci siamo messi alla pari con le grandi squadre ma con l'obiettivo sempre di fare bene e non di fare voli di pintarci i dati parlano chiaro sette gol siglati ed un solo gol subito nel giro di tre gare tra le due di coppa contro Santa Croce e l'esordi in promozione contro lo Scicli numeri che mostrano grande qualità da parte dell'organica disposizione di mister Focciana che meglio di così non poteva iniziare la stagione e che di questo passo può ambire anche a qualcosina in più rispetto alla semplice salvezza abbiamo costruito una squadra noi per fare bene non ci vogliamo nascondere ma siamo una squadra che su 25 ragazzi 22 ne sono arrivati da 20 giorni a questa parte quindi abbiamo bisogno del nostro tempo la fortuna nostra è che abbiamo un grande allenatore sta lavorando abbastanza bene a livello di gruppo quindi andiamo avanti per la nostra strada e cerchiamo di fare bene noi stessi e sono oltre 300 i ginnasti chiamati a spegnere le 25 candeline dell'associazione sportiva ginnasti club ramificata nel territorio e capace di esaltare lo sport iniziando da giovanissime leve di appena 3 anni come la categoria baby un centinaio di ginnasti indossando l'inconfondibile maglia rossa si sono dati appuntamento al lungomare per dare vita a una sessione di allenamento capace di attirare l'attenzione di molti passanti ed esaltare la palestra pubblica a cielo aperto la ginnasti club compie 25 anni e banta una ramificazione nel territorio capillare con sedie di allenamento in città e nei vicini comuni di Niscemi e Mazzarino la particolare adessione e la presenza di istruttori qualificati che operano dietro specifiche direttive di Walter Miciche fanno della ginnasti club il punto di riferimento della ginnastica artistica e ritmica maschile e femminile i titoli conseguiti dagli atleti del territorio sono solo una conferma della professionalità acquisita che feco alla certezza di essere sempre presenti il cartodromo internazionale di Gela per il secondo anno consecutivo ha ospitato gli assistiti dell'unità al silocale e gli associati del veteran motor club in occasione dell'iniziativa regala un sorriso l'evento torna per la diciassettesima edizione per dare possibilità ai disabili di fare nella pista il Mediterraneo e approcciarsi alle auto d'epoca sentiamo il cartodromo internazionale di Contrada Zai ha aperto le porte alla diciassettesima giornata della solidarietà e all'iniziativa regala un sorriso che rende protagonisti l'Unitalsi e il veteran motor club noi dedichiamo questa giornata ai disabili perché per noi è una cosa bellissima diciamo fare aiutare queste persone e farle divertire in occasione di questa manifestazione quindi che dire noi siamo felici con queste persone li facciamo ogni anno e per noi è un onore avere queste persone a fianco a noi questo è il diciassettissimo anno che facciamo questa manifestazione grazie alla sensibilità degli amici in vetro della motor club e nello stesso tempo posso dire che per secondo anno siamo qui a cartodromo dove abbiamo trovato un'accoglienza che ci sentiamo più di essere a casa nostra perché coloro che gestiscono questa meravigliosa struttura ci hanno accolto proprio a braccia aperte c'è questo connubio auto d'epoca e ragazzi diversamente abili che loro ogni anno vivono queste esperienze in maniera così profonda e sono contenti perché vivono questo momento che girano con i ragazzi con le macchine d'epoca fanno il loro giro all'interno del cartodromo e sono molto molto felice un appuntamento che ormai gli assistiti dell'unità si attendono con ansia per poter fare un giro sulle auto d'epoca e poter approcciarsi così ai motori e alla bellezza delle vetture che hanno fatto la storia del veteran motor club io sono con loro e mi divento meglio ancora e i magreppi sono lasciati bellissimi ti è piaciuto fare il giro in macchina? si quale macchina hai scelto? quella nera mi piace stare con loro mi divento stare mi piace stare meglio stare la casa come mi secca stare a casa mi piace ogni tanto che mi chiamo esco con loro mi divento guarda che bello stare insieme con gli amici e il cuore sono qua perché sono contenta la macchina d'epoca la tanghiera vado ti sei divertita? si una giornata all'insegna di solidarietà e motori ancora una volta nello scenario del rinato cartodromo internazionale che ormai è un punto fisso per gli appassionati delle quattro e delle due ruote il cartodromo l'abbiamo sempre detto la fruibilità è pubblica non è soltanto per gli appassionati delle piccole quattro ruote della competizione ma è per eventi solidari come oggi con l'unità abbiamo rinomato l'invegno sia con l'unità che con il vetro motor club e andiamo avanti con queste iniziative ci guardiamo al futuro anche pensando ad concerti che potrebbero essere un'attrattiva non solo per Gela ma per il territorio rinnoveremo sicuramente l'appuntamento per non snaturare la vocazione sportiva dell'impianto provinciale anche con gare di carte e di moto e torniamo allo sport il nuovo arrivo in casa Gela Basket si tratta di Kabir Usam giocatore duttile in grado di assumere il ruolo di playguardia seppure di origine medio orientale Kabir Omar Yousif Usam è un atleta italiano nato a Genova nel 2003 cresce tra la palacanestro Vado e la Vista 2008 Ferrara con le quali disputa tutti i campionati giovanili mettendosi in mostra come uno dei giovani più promettenti lo scorso anno in forza alla castanea basket Kabir si è distinto nel campionato di serie V interregionale con ben 32 presenze e una media realizzativa di 9,8 punti l'atleta Ligure è arrivato in città questa notte e nel pomeriggio si aggregerà nel gruppo guidato da coach Bernardo per i primi allenamenti della stagione per conoscere i nuovi compagni di squadra è tutto il nostro telegiornale termina qui per gli altri approfondimenti vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it adesso vi lascio le previsioni meteo grazie per averci seguito Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti